577 persone in Valle Peligni hanno beneficiato del reddito di cittadinanza, della pensione di cittadinanza. In tutto l'Abruzzo sono 19.429, nella provincia dell'Aquila sono già 4.984 le domande accolte. Nella macroarea del centro Abruzzo, che ha avuto il 18,2% sul totale regionale, ne sono state accordate in totale 909. Ripartite tra Valle Peligni a 577, il 63,5%. Alto Sangro 232, vale a dire il 25,5%. Valle del Sagittario 45, il 4,9%. Valle su Bequana 55, il 6,1%. A Sulmona ne hanno beneficiato 292 persone. A Prato Lapeligni a 137, a Scanno 14, a Castel di Sangro 123, solo per citare alcune realtà. Il quadro completo impone comunque delle riflessioni. Per la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo occorre andare oltre per vedere uno spaccato sociale che può tornare o soffrire di somme più che mai necessarie a condurre il quotidiano. Poiché, al di là dei freddi numeri, non dobbiamo dimenticarlo. Le cifre sono persone e famiglie che hanno riacquistato la dignità sociale, individui e nuclei familiari, ridotti in povertà, dannose politiche, sorde, allento e resorabile declino economico degli italiani e dei nostri abruzzesi, sofferenti, inascoltati, silenziosi. Finché il governo del cambiamento non ha dato loro attenzione, con una manovra mai effettuata prima, ha messo a disposizione somme di denaro per tornare a vivere, anche potendo acquistare piccole cose ma sufficienti, elevare una condizione non solo economica ma anche di dignità nel sociale, soprattutto con maggiore libertà e speranza nel futuro. Tante persone che con estrema sofferenza hanno vissuto l'emarginazione e oggi con rinnovata dignità tornano a sorriso, alla vita vissuta, con meno preoccupazione e angoscia, sostiene la senatrice. Eppure la vera sfida è quella di non ridurre tali misure a un vero e proprio assistenzialismo, come pure la lotta e quella contro l'abusivismo e i lavori in nero, una piaga tanto diffusa in Italia quanto sul territorio. Si tratta dei cosiddetti furbetti. Basteranno i controlli approntati dal governo?